Col passare del tempo c'è una frase che ogni tanto leggo nei commenti, che alcuni di voi mi scrivono, che da un lato mi fa molto piacere, ma dall'altro, ragazzi, purtroppo, nasconde secondo me un messaggio sbagliato e ne parliamo meglio, ok? In questo vlog particolare. Dopo la sigla. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, questo vlog qui è un tipo di vlog che non facevo da un pochettino di tempo e uno di quelli in cui mi piace parlare un pochettino più approfonditamente del significato di certe cose, del tipo di rapporto che c'è con la community e del tipo di spirito che c'è dietro il mio lavoro, il rapporto del mio lavoro con la community e che tipo di rapporto alla fine intendo sviluppare con chi mi scrive cose del genere o tantissime altre, ok? Antefatto un pochettino più complicato, ma questo vlog è effettivamente un pochettino particolare e non ne faccio da un po'. E un po' mi manca perché io credo che siano cose importanti di cui parlare e sono molto ricorrenti, non capitano certo soltanto a me e credo che a volte nascondano delle cose che molti non si rendono neanche conto di quanto effettivamente, in alcuni casi, possono essere dannose. Questo vlog parla di un messaggio che ricevo abbastanza spesso nei commenti o come messaggio personale o qualche volta perfino di persona ovvero meriti più iscritti che può essere anche a dire la verità, cavolo spero che tu vada avanti ancora di più oppure meriteresti più iscritti di quelli che hai Questo messaggio ha parecchie forme differenti e voglio dividere questo vlog in due perché è necessario, perché ovviamente sono perfettamente consapevole che chi mi scrive questo messaggio lo scrive per darmi un supporto, per dirmi che apprezza quello che faccio e quindi le intenzioni sono assolutamente positive dietro questo messaggio e anzi sono, per chi lo riceve, molto preziose ma nella seconda parte di questo vlog vorrei parlare un pochettino anche del perché questo tipo di frasi nascondono anche, secondo me, un messaggio di fondo che è profondamente sbagliato e che però nasconde un atteggiamento che secondo me è profondamente dannoso e che può causare dei danni, tra virgolette soprattutto ai creator che non hanno ancora familiarizzato con questo tipo di cose per le ragioni più svariate Partiamo dalla prima parte, anzi, da un antefatto generale Io ho un canale piccolo, ovvero un canale al di sotto dei 10.000 iscritti che sta faticosamente tentando di crescere, creare dei contenuti, ponendosi mille domande mi sto facendo un culo come una capanna da moltissimi punti di vista è questa la mia realtà Quindi, nella prima parte voglio dirvi quando ricevo messaggi del genere, ovvero meriti più iscritti Io, in realtà, sono molto felice perché capisco che quello che mi viene detto è porca miseria, sono davvero molto belli i video che fai e vedendo i tuoi numeri sono noto uno scollamento cioè, i tuoi video sono veramente di qualità mi piace tantissimo quello che fai mi intrattiene un sacco e, cavolo, mi piacerebbe che avessi il riconoscimento che meriti per via del lavoro che fai e questo, ragazzi, è una cosa che mi fa estremamente piacere e che appaga molto la mia volontà di feedback ovvero, io quello che creo lo creo per tante ragioni differenti prima di tutto perché è la mia passione prima di tutto perché mi diverte perché sono entrato in questo circolo, se vogliamo, di creazione di contenuti e col passare del tempo mi sono davvero appassionato a questo tipo di lavoro e mi piacerebbe tanto poterlo continuare e renderlo veramente stabile col passare del tempo quindi, dato che è una cosa risaputa che chiunque praticamente chiunque vuole crescere su youtube e su qualunque altra piattaforma ovviamente anche le persone che si relazionano con te guardando i numeri o volontariamente perché ci fanno caso o magari perché gli ci casca l'occhio notano questo scollamento e dicono cavolo mi piacerebbe davvero che ancora più persone ti notassero e notassero la qualità di quello che fai questo, come ho detto è molto positivo per il mio ego se vogliamo per il riconoscimento di quello che faccio e ve ne sono estremamente grato ragazzi perché me lo scrivete spesso e questo mi fa capire che sto andando nella direzione giusta ok? questo però sto andando nella direzione giusta deve essere il cardine per passare dalla prima parte alla seconda perché se da un lato sono estremamente grato per questo tipo di messaggi credo che di base siano positivi e le persone che mi scrivono questo sono animate dalle migliori intenzioni e dalla volontà di spronarmi e di mostrarmi il loro supporto a quello che a quello che faccio e la loro valutazione più che positiva di quello che sto facendo cercando di proiettarla in un futuro in cui acquisterò il riconoscimento che loro credono che io dovrei avere in base a quel lavoro d'altro canto attenzione questo messaggio nasconde un qualcosa che è pericoloso per chi sta creando contenuti ok? io ho un vantaggio ovvero quello di venire da altri ambiti di essere un tipo che ci ragiona molto su queste cose che si mette molto in discussione e che cerca di valutare prima di tutto se stesso e quello che sta in realtà facendo su questa piattaforma l'ho imparato col tempo perché all'inizio io non ero così ma diciamo che sono in una posizione privilegiata in questo e quindi quando ricevo questo tipo di messaggi li so decodificare e li riconosco come positivi nel senso ben intenzionati di persone che vogliono effettivamente il mio bene e che vorrebbero vedermi crescere però se il ragionamento è ed è qui il punto vorrei che avessi gli iscritti che meriti attenzione ragazzi perché qui iniziano i problemi ovvero gli iscritti che meriti i numeri che meriti sono una cosa che molti basano su un fatto morale ovvero se tante persone creano tanti contenuti è vero che moltissimi ricevono dei feedback e dei risultati completamente diversi un video che faccio io non avrà molto probabilmente gli stessi risultati che ha un video fatto da un creator molto più grande sulla piattaforma con una milionata di iscritti a salire se questo è normale da un certo punto di vista porta molte persone a interrogarsi sul fatto di ma com'è che certe persone sono così grandi rispetto ad altre e siccome molto spesso capita che le loro preferenze si scollino con i numeri che una persona ha ovvero magari dei creator super grandi super seguiti e che magari stanno esplodendo che hanno una crescita esponenziale alcuni non li ritengono particolarmente validi cioè non gli piace il contenuto che creano e pensano che sia un contenuto di scarso valore si scolla questa cosa con la semplice visura dei numeri che fanno e dicono che no quelle persone non se lo meritano mentre magari ci sono dei creator più piccoli e non sono certo necessariamente io ce ne sono tantissimi di ragazzi veramente bravi che stanno crescendo piano piano o più lentamente di altri che invece vengono percepiti come persone che fanno cose di qualità e ingiustamente non crescono è qui il problema ragazzi o perlomeno uno dei problemi che questa cosa non ha nulla a che fare con la giustizia ovvero non c'è qualcuno che decide queste cose sono le persone che alla fine hanno il potere più assoluto nei confronti di quello che fai se ci stiamo basando sul risultato numerico e sul risultato di coinvolgimento che il tuo contenuto ha nei confronti delle persone se io faccio qualcosa e lo faccio con tutte le migliori intenzioni badando alla qualità di quello che produco del come lo produco e del modo in cui lo propongo può capitare che questa cosa sia scollata da una eventuale valutazione morale che una persona può fare ovvero quella persona che magari fa un contenuto che io ritengo becero brutto buttato lì eppure ci sono tante persone che lo guardano come mai? eh perché sono le persone a decidere alla fine ragazzi e questa cosa non ha niente a che vedere con con la moralità anche perché la moralità in certi campi come in questo in quello della comunicazione è piuttosto soggettiva questi numeri vengono fatti da persone che guardano questo tipo di contenuto è vero che youtube tramite i suoi algoritmi suggerisce certi contenuti rispetto ad altri ma è anche vero che questi algoritmi non non spingono certi contenuti rispetto ad altri a caso o sulla base di principi o sulla base di fattori che non non sono non è possibile capire gli algoritmi sono disegnati da delle persone per svolgere un compito e il compito che questi algoritmi hanno è quello di far guadagnare più soldi possibile a youtube e facendo questo assicurano il successo della piattaforma per lo meno nelle intenzioni di chi l'ha creata questa cosa poi magari potrebbe pure andare male e potrebbero quindi ripensare e cambiare questi algoritmi ma al momento e credo che sarà così virtualmente per sempre gli algoritmi diciamo che privilegiano certe cose rispetto ad altre e se lo fanno è perché queste cose probabilmente funzioneranno meglio e perché funzioneranno meglio perché probabilmente queste cose vengono guardate da più persone per più tempo e se i miei contenuti non vengono guardati in così tanti numeri e per così tanto tempo rispetto a quelli di qualcun altro sono alla fine le persone a deciderlo un algoritmo può metterti pure davanti agli occhi qualcosa però alla fine sono le persone a decidere se guardarono questa cosa e per quanto tempo guardarlo perciò anche mettendo caso che un algoritmo mandi davanti a tutti un video che davvero non vale la pena nel giro di breve tempo ragazzi quel video andrà un pochettino a perdersi perché molto semplicemente le persone non lo troveranno abbastanza di valore il valore che una persona dà a un contenuto è dato da se ci clicchi o no e per quanto tempo lo guardi per quanto interagisci con quel contenuto e che cosa fai cioè banalmente i mi piace i commenti per quanto tempo tu hai a che vedere con quel tipo di contenuto il fine di youtube è di mantenerti sulla piattaforma il più a lungo possibile perché più stai sulla piattaforma a guardare contenuti più loro guadagnano dagli ad sulla piattaforma ed anche altre cose il che vuol dire che banalmente se un tuo video non ha il successo di un altro video è perché le persone non lo guardano e non c'è una vera moralità in questo questo ragazzi si connette con un'altra cosa ovvero con il pensiero che se i tuoi contenuti non funzionano è perché è colpa di qualcun altro e questa è una cosa che vedo molto spesso all'interno della piattaforma e questa è profondamente sbagliata come cosa come atteggiamento è profondamente sbagliato perché ti porta a non lavorare abbastanza su te stesso sui tuoi contenuti sulla qualità di quello che fai e su quanto hanno questi contenuti appealing nei confronti del pubblico ok ovviamente le tecniche di clickbait e tutte le tecniche che alcuni considerano immorali vengono utilizzate molto spesso alcune le utilizzo perfino io ma alla fine ragazzi queste tecniche sono inutili se tu non hai dato abbastanza valore al tuo contenuto e le persone alla fine non finiscono per non guardarlo più di tanto io posso fare un sacco di cose per portare le persone a cliccare su un contenuto ma se il video fa schifo le persone lo chiudono molto velocemente l'algoritmo di youtube si accorge di questa cosa e smette di suggerirlo ad altri e tantissime persone non sapranno neanche che quel video esiste se invece io piccolo grande creator che sia crea un contenuto che è veramente valido all'inizio l'algoritmo di youtube lo suggerisce a poche persone però quelle poche persone a cui arriva questo video magari ci cliccano perché perché comunque quel video ha ha fatto il suo dovere nel catturare la tua attenzione in tanti modi tramite il titolo la thumbnail eccetera eccetera il tema del video ovviamente che deve andare incontro ai tuoi gusti al tuo interesse la tua curiosità e tantissime altre cose meno meno edificanti d'accordo poi però quel video è fatto veramente bene tu lo guardi per intero e l'algoritmo di youtube suggerisce quel video ad altre persone perché vede che oh il video cioè le persone a cui abbiamo suggerito questo video beh l'hanno apprezzato suggeriamolo un po' ad altre persone e così il video cresce 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 fino a diventare tra virgolette virale ok se va tutto bene se tu dici a un creator meriteresti più iscritti o meriteresti migliori numeri o qualunque altra forma che può avere questo questo tipo di frase gli sta in sostanza dicendo oltre alle cose positive di cui abbiamo parlato prima però che cavolo sei stato veramente sfortunato finora i tuoi video valgono veramente ed è un ed è veramente male che tante altre persone non abbiano avuto la possibilità di guardarlo perché se ce l'avessero questa possibilità porca miseria allora andrebbe tutto quanto bene e tu avresti il risultato che ti meriti perché il tuo video è fatto veramente bene però ragazzi il punto è che se il mio video non è arrivato a così tante persone non è per colpa di qualcun altro possono esserci tantissimi fattori che non derivano direttamente dal merito di una persona per cui un video va meglio o peggio questo assolutamente sì mi posso anche fare un esempio personale dopo aver finito questa parte molto importante il punto è che quando tu dici una cosa del genere a un creator stai dicendo che è per sfiga che queste cose non stanno capitando tutte queste cose belle non ti stanno capitando e purtroppo ragazzi non è vero non è vero nella maggior parte dei casi me compreso non è vero se i miei video e il mio canale non ha raggiunto ancora certe dimensioni è perché non sono abbastanza bravo non perché non sono abbastanza fortunato la fortuna aiuta e ripeto c'ho un aneddoto personale in questo perché sono stato anche io fortunato in certi ambiti assolutamente e se tu dici questa cosa a un creator appunto e quel creator non è una persona che ha la fortuna come me di essersi abituato a ragionare su certe cose a un po' di codificare e leggere le cose stai portando questa persona a dire ok evidentemente quello che faccio va già bene così e i margini di miglioramento sono un po' secondari quello che mi servirebbe è in realtà la botta di culo o il fatto che youtube pubblicizzi di più le mie cose dannazione devo far sì che questo accada oppure porca miseria ho il mondo contro e guarda quanta gente che non che non solo merita che è arrivata così lontano e io invece che faccio dei video così belli però per qualche ragione le persone non li stanno guardando sono sfortunato e sono bistrattato e questa cosa è ingiusta perché il mondo è ingiusto queste cose sono profondamente negative ragazzi e non portano a niente di buono secondo me e attenzione perché molte persone ragionano così lo vedo tutti i santi giorni non solo in ambito youtube o cose del genere se proprio bisogna dirla tutta ma è una cosa veramente negativa secondo me la realtà è che se i miei video non hanno raggiunto certi livelli e se il mio canale non è cresciuto più di un tot è perché ancora devo lavorare molto su quello che faccio e tante cose che faccio evidentemente non sono abbastanza buone perché alla fine sono le persone che decidono cosa guardare come guardarlo e per quanto guardarlo se un video è buono alla fine le persone se ne accorgono se è veramente buono può essere in una nicchia può essere un video invece estremamente popolare che va a prendere più persone possibili ma la maggior parte delle persone che creano i contenuti vogliono mostrare i propri contenuti a più gente possibile alcuni vogliono rimanere in una nicchia per coltivare quella nicchia d'accordo ma nella mia esperienza la maggior parte dei creator vuole che i suoi video vengano guardati da più persone possibile e basta e il fatto di non volere un certo tipo di utenza è vero fino a un certo punto però in realtà i numeri piacciono a tutti ok quindi questa cosa qua cozza anche un pochettino con quello che senti dire sulla piattaforma che è molto diverso da quello che uno poi fa e quello che uno vorrebbe veramente che accadesse quando uno fa un video cerca di comunicare qualcosa e quel qualcosa viene fatto in una certa maniera con certi tempi eccetera e può incontrare o no le preferenze del pubblico se l'incontra quel video va bene se non l'incontra quel video va male e quanto hai speso tu quanto cuore ci hai messo è irrilevante se le persone non lo riconoscono e se non lo riconoscono ragazzi è qui il punto di tutto nel 90% dei casi è perché quel video non ce l'aveva queste cose altrimenti magari ci vorrà un po' di più magari non va così veloce quel video magari non esplode subito però se il video è veramente valido col tempo che youtube li tiene da parte i video non ne cancella nessuno se non in certi rarissimi casi che hanno a che vedere con la violazione di certe cose sulla piattaforma che possono pure cambiare col tempo d'accordo ma a parte questi rari casi youtube i video non li cancella motivo per cui c'è sempre una possibilità che un video che tu hai fatto veramente molto bene che magari hai incontrato che ne so le persone sbagliate a un certo punto però incontra quelle giuste a me qualche volta è capitato che dei video che nella prima settimana avevamo fatto dei numeri veramente bassi col passare del tempo hanno continuato a crescere no? e qualche volta io sono rimasto deluso dal fatto che un video su cui avevo speso veramente tanto tempo l'avevo fatto con tanta cura non aveva ricevuto i risultati sperati qualche volta è rimasto così qualche volta quel video dopo un po' ha cominciato a funzionare un po' meglio ora arriviamo al mio aneddoto di cui volevo parlare prima tutto questo tutto questo mio discorso non vuol dire che non ci sia la fortuna in campo c'è assolutamente nel mio caso per esempio la prima canzone che ho portato sul canale la famosa The Power of Balivo la canzone che era una cover di un brano di quei due sul server è stata vista in live direttamente da quei due sul server e per via di questo ho avuto una enorme esposizione ovviamente la canzone era valida ci ho lavorato moltissimo era una canzone una canzone intrigante di buona qualità audio sicuramente video probabilmente un po' meno però comunque si faceva si faceva guardare era ben pensata ci ho lavorato tanto ero consapevole che il mio prodotto era buono ero anche consapevole del fatto che era un prodotto abbastanza catchy che poteva incontrare il favore del pubblico quindi non è che il mio contenuto non valesse la pena comunque ma il fatto che quei due sul server l'abbiano visto in live è stata una cosa determinante per far sì che sia al momento uno dei video più visti del canale no? ecco quella è la quella è la fortuna quella è il fatto che quella cosa poteva anche non accadere era un video buono lo stesso? sì non avrebbe avuto la stessa risonanza perché non ho avuto quella fortuna certo ho cercato di far sì che questo accadesse quindi sono andato a cercarmela la mia fortuna però comunque mi è capitata poteva tranquillamente non capitarmi questa cosa potevo mandare quel messaggio in chat loro potevano non vederlo potevano vederlo e ignorarlo potevano vederlo aprire il video non essere molto contenti del risultato richiuderlo immediatamente potevano succedere un sacco di cose eppure è successa la cosa migliore possibile probabilmente e quel video è stato visto molto di più di quanto magari non avrebbe fatto in altre circostanze quindi sì ma componente fortuna è importante può capitare però vi faccio anche il discorso inverso se io avessi fatto tutto quanto catchy al di fuori e il video fosse stata una schifezza non avrebbe funzionato altrettanto bene no? perciò qual è la cosa più importante fra le due? fare bene il video o pensare di avere la botta di culo o pensare che l'algoritmo ti debba favorire in una certa maniera o pensare che ci siano delle persone che non si meritano quanto te un certo tipo di risultato pensare questo non ti porta assolutamente a niente porta a non fare quello che potresti veramente fare per migliorare i tuoi contenuti ti porta a dare la colpa a cose esterne che non siano te e quindi alla fine a non metterci l'impegno che magari dovresti per migliorare te stesso i tuoi video il tuo modo di farli il tuo modo di proporli e tutto quello che ha a che vedere con l'universo della creazione di contenuti su una piattaforma gigantesca come questa e ti porta a dare sempre la colpa a qualcun altro e questo è un qualcosa che ti danneggerà anche non soltanto nella creazione di contenuti secondo me è una cosa un po' più profonda ed è per questo che fin dall'inizio vi ho detto che questo messaggio ha anche un risvolto per niente buono ok in sostanza ragazzi io sono perfettamente consapevole che chi mi dice questo vuole il mio bene e lo fa per come riconoscenza lo fa per per trasporto perché gli è piaciuto molto quello che faccio e e però la seconda parte del messaggio è abbastanza sbagliata è il il significato che questo messaggio che che sta dietro questo messaggio spesso è sbagliato e gli effetti di questo messaggio su qualcuno un pochettino meno avvezzo a questo tipo di ragionamenti a questo tipo di considerazioni può essere molto brutto e portarlo ad avere risentimento svilire quello che in realtà potrebbe veramente fare io quello che cerco di fare ragazzi è quello che nel mio piccolissimo consiglio a tutti di fare è di lavorare su se stessi e basta e le altre cose considerarle molto meno e se qualcosa non funziona è perché il tuo contenuto non va abbastanza bene possono capitare cose esterne da te su quali non hai il controllo ma se il tuo contenuto è veramente valido e le persone vogliono veramente guardarlo allora alla fine qualche risultato arriverà e poi un video un altro video un altro video alla fine qualcosa inizierà a funzionare se sei veramente bravo dopodiché ovviamente c'è anche il concetto di quello che guardano le persone o le persone guardano solo queste minchiate qui ci sposteremo su un discorso che non voglio fare ma anche lì la piattaforma questa è non puoi chiedere una piattaforma diversa puoi pensare di fare contenuti differenti che possano persino avere la pretesa perché di pretesa nella maggior parte dei casi si tratta di educare l'utenza non è così e oltretutto chi te lo dice che li educhi nella maniera giusta no ti pensi che sia criticabile qualcosa chi te l'ha detto che hai tu la risposta per risolvere questo problema e che magari dopo la tua educazione non vadano peggio le cose non è affatto detto quindi anche in quel caso non credo che sia una buona idea andare a considerare troppo queste cose e concentrarsi su se stessi io credo che sia la cosa migliore in assoluto sul migliorare costantemente quello che si fa come lo si fa mettersi in discussione ogni santo giorno cercare di migliorare e non dare mai la colpa di un contenuto che non ha funzionato a qualcun altro se non a te stesso e nel fare questo non abbattersi eccessivamente non non reagire male ma imparare imparare perché come dice Yoda nel purtroppo l'ultima trilogia di Guerre Stellari che è quella che è però di gran lunga il punto più bello dell'ultima trilogia di Guerre Stellari il fallimento il miglior maestro esso è vero vero certo bisogna saperlo prendere però insomma comunque ragazzi il punto di questo vlog è che io vi ringrazio moltissimo quando mi scrivete questo tipo di cose e credo che moltissimi abbiano le migliori intenzioni verso di me potete ancora farlo per carità va benissimo io le so un po' leggere queste cose però attenzione a farlo con con altri creator perché potrebbe potrebbe questo messaggio triggerare un discorso e un atteggiamento che non va tanto bene e quindi quello che vi vorrei suggerire invece di di mandare un messaggio del genere è uno di dire semplicemente cavolo bellissimo video mi è veramente piaciuto complimenti a posto questo è il classico messaggio di ringraziamento per il contenuto che hai visto ed è veramente una cosa importante per i creator credetemi scrivetelo a me ad altri è una delle cose più belle che un creator possa ricevere questa è la prima cosa limitatevi a apprezzare il video in sé e non proiettatelo sulla realtà di youtube ok perché la realtà di youtube è quella con cui tutti quanti dobbiamo avere a che fare ed è quella non è un'altra e non è così ingiusta come tantissimi pensano tantissimi non è vero non è vero poi così tanti come certi pensano in questa piattaforma se sei veramente valido qualcosa ottieni ok ne sono convinto di questo anche perché l'ho visto succedere molte volte certo capita anche a me qualche volta di dire oh mio dio ma guarda quanti visualizzazioni ha questo video di merda evidentemente non è così di merda però c'è qualcosa che io non ho colto che io non ho colto tanti altri evidentemente sì e hanno scelto indipendentemente di passare il proprio tempo su quel video perché altrimenti l'algoritmo non lo suggeriva a così tante persone e anche le cose che funzionano un po' a caso come è capitato anche a me a volte alla lunga si rivelano fuochi di paglia se uno continua a crescere sempre 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 e magari fa dei contenuti che a te non piacciono che ritieni beceri brutti di poco valore e però continua a crescere anche con gli anni vuol dire che non erano di così poco valore quel tipo di contenuti quindi ragazzi questo voglio dirvi e ah sì la seconda cosa che potete fare però è essere voi il motore della diffusione di un certo canale perché se siete voi stessi a suggerire a un amico o a qualsiasi altra persona tramite i vostri social la vostra possibilità di interagire con altre persone anche all'interno della community del canale stesso e beh allora state facendo qualcosa di buono per il canale e lo state facendo voi stessi quindi siete voi stessi il motore di questa cosa quindi se vedete un video che vi è particolarmente piaciuto magari condividetelo e questa è una cosa che vale per tutti non solo per me se vedete un bellissimo contenuto di qualche altro creator magari piccolino magari perfino più piccolo di me che però è fatto veramente bene condividetelo e interagite con quel contenuto insomma fate quello che è in vostro potere per far sì che quel contenuto abbia l'interazione e la diffusione che gli potete dare voi stessi perché l'algoritmo di youtube si basa su certi standard se voi volete ogni tanto bypassare questi standard e far arrivare questo video a più persone possibili nonostante magari l'algoritmo lo stia un pochettino cannando perché nonostante tutto pensate che sia valido allora lo potete fare voi stessi è questo quello che intendo e credo che sia tutto ragazzi questo video è venuto pure più lungo di quanto immaginassi ma era un discorso che ci tenevo a farlo era tanto che non vi parlavo in questi termini è un discorso che sento fare troppo poco sulla piattaforma e vuole essere comunque un messaggio positivo di incoraggiamento a tutti i creator che come me sono piccolini che stanno cercando faticosamente di affermarsi è che non è colpa di nessun altro se non cresci ok? e potrei dirla in altri termini vuol dire che fa schifo il tuo contenuto e questo guardate che in realtà è un messaggio positivo vuol dire che puoi migliorarlo il tuo contenuto e una volta che l'avrai veramente migliorato poi comincerà a funzionare meglio e l'ho visto succedere con alcuni dei miei video certe cose che prima non andavano tanto bene poi sono andate un pochettino meglio io ho ancora tanta strada da fare tantissime altre persone hanno tanta strada da fare e ci sono persone meglio di me che vi potrebbero dire questa cosa però è una cosa che credo che da un creator piccolo sia importante che venga perché quando senti questi discorsi come quelli che sto facendo io e non li senti tanto spesso purtroppo li senti dire da creator più grandi e allora c'è sempre l'alibi da dire vabbè ma tanto lui è grande grazie al cavolo che mo la pensa così mo quando era piccolo però non la pensava così magari è vero beh ma io sono sotto ai 10.000 iscritti in questo momento nel momento in cui sto pubblicando questo video sul canale molto probabilmente sono due giorni di scarto ma dubito di fare 3.000 iscritti in due giorni quindi è importante che questo discorso venga anche da uno come me perché credo che sia un messaggio positivo per ognuno di fare del proprio meglio e di mettersi sempre in discussione ed è quella la cosa più importante secondo me perciò non è vero che mi merito più iscritti questa è la conclusione del video non è vero perché se no ce li avrei vuol dire che devo lavorare ancora di più su quello che faccio io sono molto contento che vi siano piaciuti i contenuti ma evidentemente non sono piaciuti ad abbastanza persone devo migliorare devo migliorare ancora ed è una cosa sempre in divenire si può fare sempre meglio ed è questa una delle cose più belle di vivere sulla piattaforma cioè del crescere migliorarsi io ho imparato tante cose da quando ho i canali youtube e in tante cose sono migliorato e ne ho visto i benefici anche al di fuori di youtube non solo in quello che so ma anche in quello che sono in quello che faccio quindi era questo il messaggio ragazzi e di nuovo vi ringrazio lo stesso per questo tipo di di commenti che mi fate perché so che avete buone intenzioni però attenzione perché possono nascondere un brutto messaggio e magari magari si può fare qualcosa di diverso ok e si può lanciare un messaggio migliore anche se magari qualcuno non se lo vuole sentir dire mi rivolgo al me stesso di qualche anno fa che ci ha messo un po' a ingoiare questa questa pillola o meglio ingoiare il termine sbagliato quindi questo era tutto per questo video molto lungo ragazzi ci ci tenevo a parlarvi apertamente di questa cosa qui perciò spero che questo video vi sia piaciuto e sono curioso però di sapere che cosa ne pensate voi di questo di questo tipo di cose perché magari non la sentite così spesso ma io credo che sia assolutamente vera questa cosa e bisognerebbe parlarne anche un pochettino di più nel mentre non arriveranno sempre vlog lunghi come questi però mi piace parlare di queste cose di tanto in tanto ok quindi come sempre grazie mille per aver visto questo video la sezione commenti è tutta vostra fatemi sapere che cosa ne pensate interagire con un contenuto è un modo buono per promuoverlo quindi più commenti fate più questo video verrà suggerito ad altre persone giusto per rimanere in tema e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch lasciate un like se vi è piaciuto questo video e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i vlog qui sul canale d'accordo ragazzi? a presto grazie a tutti